L'Allianz Udas conquista il terzo successo stagionale nella terza giornata del campionato di basket a Serie C Silver. I biancazzurri di Luigi Marinelli devono sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione dell'Action Now Monopoli, che pur faciliata dai fortuni, specialmente nella prima parte di gara e a metà della seconda, ha dato del filo da torcere alla formazione udassina, che ha avuto anche un vantaggio di 12 punti, poi risucchiato dai padroni di casa in poco tempo e all'intervallo lungo si va sul 31 pari. Equilibrio anche nel terzo, con una ricorsa punto su punto da entrambi gli schieramenti e di ciò ne beneficia lo spettacolo. Nella parte finale, trascinati da un boss non al meglio, ma con i soliti Grimaldi, Marchetti e Serazzi a Darmanforte unita a Falcone, i biancazzurri vincono 66 a 57 e rimangono in vetta alla classifica, sia pure in condominio con altre squadre.